Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del NoiaCraft Allora, come avevo detto nello scorso episodio, dobbiamo prendere questi energetici a noi Perché ci sono 10? Nooo, non è andato avanti Miii, me lo so dimenticato Sono andato a FK, ho detto tanto li lascio cuocere E purtroppo non è andato, guardate i miei pannellini solari come scaldano quella turbina Ma che bravi che siete i pannellini, bravi Ok, prendiamo un bello stack di coke Di co... di co... di co... di coa... di coa lavorato La gente sempre pensa male Ok, e andiamo a mettere una formation nel generatore in modo da poterlo Perfetto, è andato Ok, sta cuocendo i lingotti Vabbè, ce ne ho 10, mi sa che non bastano per niente Vediamo un po' Andiamo sulla Endure U E prendiamo i cavi da 5000 Ok, ci servono i classici binder che dovrei avere in grande quantità Dovrei, eh Premesse non concesso Non ce l'ho, manco per i cavi Voi li vedete? Sto cecato io o non ci sono? Sto cecato io? No, non ci so proprio Eh già Ok, andiamone a craftare Che serve? Ah, è vero La sabbia, la gravel e l'argilla È vero Avevo interrotti i craft l'altra volta perché avevo finito la sabbia Perché sempre al corto di sabbia Ecco, c'ho malapena uno stack Proprio un pulciaro Poi mi serve l'argilla C'erano 36 Non male E poi mi serve anche la gravel Parecchia gravel però Mi serve tantissima gravel Senta con due stack Ok, premetto che da un craft ne escono mille milioni Quindi posso craftarne anche pochi Ma vabbè, dettagli Ne crafto 8 Allora, da una stack di questo Anzi, da ogni cottura Ne escono 4 Quindi questi 2 stack e mezzo Quasi 3 Ne usciranno 12 stack 12 no, ma 10-11 sì Ok, ho fatto 10-11 stack di Conduit Binder Vanno all'induction? No, manco per il cazzo Sì, perché non ce l'avevo Non ce l'avevo un po', guarda Posso usare questi per ora No sì? No sì? Benvenuto Welcome Welcome everyone To this new mod Spotlight 16 Ok, 16 cavi Non ci faccio proprio niente Perché per imbattire tutta casa Mi ci vorranno mille milioni di cavi Però intanto posso andare a collegare I producer Che abbiamo lasciato nello scorso episodio In sospeso Con le batterie In questo semplicissimo modo Avete visto che sono diventati verdi? Ci avete fatto caso? Guardate È rosso perché non è collegato Perché non sta buttando fuori Ora sì E li colleghiamo con le batterie Perfetto Quanto stanno? Beh, non è molto ragazzi Però sta comunque caricando delle batterie Da 10 milioni Sa 80.000 RF Non so, comunque pochi Questo sa 154.000 Però questo viaggia, non scherziamo Quanto produce? Poco più di 10 RF Ma si può fare Ovviamente l'impianto della factorization va ampliato Cioè, ne ho messo solo uno Ne metrò altri Comunque, dettagli Adesso sto coso qui Beh, effettivamente adesso che ci penso Non è che siamo molto 10 RF Producono 40 RF in 4 Probabilmente ragazzi Chi ha progettato la mod Non ha fatto bene i calcoli Perché probabilmente sta producendo In megajoule Sta producendo 10 megajoule Però loro hanno tradotto 10 RF Ma 10 megajoule Non so 10 RF So 100 RF Quindi probabilmente Dovrò andare nei config E darci un'occhiatina Comunque Tralasciando questo Andiamo a sistemare l'impianto sotto Vi ho detto che lì la cottura è da sistemare Lo smestamento è da sistemare Facciamolo Scusate Un pezzo in diamante Diamante C'è il vetro? Non dico ho finito il vetro Vedo Vedo No, 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 no L'ho buttato nello smestamento a fine episodio Quindi sta nella cesta del vetro Giusto? No, manco pure il cazzo Non manco per niente Ma chi sei? Ma che vuoi? Dove sta? Ancora che è rimasto Perfetto Non è ancora stato portato via ragazzi Qua c'è talmente veloce Che l'aspiro della bullcraft Non riesce a portare via la roba Fatevi due conti Ok Abbiamo tubini avanti Anzi ne faccio No, basta 8 basterà Spero Spero Cos'è che non è ancora stato filtrato? Il led della thermal Il silver della thermal Poi Che cos'è? Il tin dell'industria craft Il tin della forestry Il copre della flux verde Il copre della rally craft E basta? Tutto qui? Perfetto Andiamo subito a mettere questi filtri che mancano Mi serve anche una pipe in ferro Credo No, una pipe in oro Una pipe in ferro Sì Oro 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 Pipe in oro Dove sono le pipe? I tubi in oro I tubi in oro Scusate Le ho usate tutti? Seri? Cioè scherziamo Siamo scherziamo Sì Le ho usate tutti Vabbè Tubi in oro dove siete? Oro qui Vieni qui Allora qui Facciamo Uno E due Sì Certo Come no Oggi sono un po' dislessico con le dita Con le dita dislessiche Non vanno dove andrebbero Mi ho finito anche il cibo Sto morendo di fame Ho dimenticato di fare una cosa Accendere il cronotyper Raga Ma voi non me lo ricordate? Cioè ma nei commenti Cazzo Ma mannaggia Accendi sto coso No Devo mettere tubi sotto Fermi Fermi tutti Andiamo sotto Dove sto andando? Lol Ok Ho sfasciato tutto Vieni la cobblestone che ho tolto Allora questo tubo Devo andare dentro il cronotyper Che sta lì Così Partito Sto spostando i bambini ora Credo Non lo so Dunque Vorrei far notare i setterrani di casa Quanto sono belli ragazzi Non mi sto tagliando Ah no era di là che dovevo andare Sì Lo smistamento Ma non è bellissimo Basta Tutto bello Ok Devo smistare gli altri minerali Quindi Da qui Deve uscire un altro tubo in diamante Che vada verso lo smistamento di là Che però Non deve toccarsi con la pipe in oro Deve non essere separati Cazzo Questo dovrebbe essere un problema Mi spiego perché dovrebbe essere un problema Perché il tubo qui in oro Si attacca con tutto Quindi se io metto lo smistamento ad esempio Mi spiego Arriva la roba dal quarry Ok E la butto di là Però da lì Non vado dove dovrebbe andare No Nope Non vado dove dovrebbe andare Sul giallo Ci metto ad esempio Il led della Thermal Il led della thermal girerà di qua E andrà qui E questa pipe in oro Andrà là Quindi dovrei mettere due pipe in diamante Con doppio filtro Triplo filtro Quattroplo filtro Roba no sense Ok Va bene Giallo è ancora sul giallo In ordine ragazzi Così mi Ah aspetta Li ordino nell'inventario Led Thermal Copper Idraulicraft Copper Foxbird Tin Forestry E tin Indusir Guardate questo smistamento Non può essere complesso Giallo Uguale Copper Copper Tin E tin Perché faccio questo ragazzi Perché io devo indirizzare il materiale Ad andare per di là Quindi se Se qui non mettevo la pipe in diamante La roba non sarebbe andata di qua Infatti se vedete sta andando E sta andando nella cesta sbagliata Perché devo mettere un altro filtro pure qui Tutto Qui al posto di questa pipe in oro Ci va una pipe in diamante Così E questa pipe in diamante Deve mandare giù la roba E deve anche una pipe in ferro Per questo Non me la so portata Perché so stronzo Sul tubo nero Ci va Questa stessa roba Nero 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 E nero Avete visto che ho fatto? Avete capito? Inteso? Andato? E adesso tutto il minerale Scenderà da qui Però il problema è che potrebbe tornare su E se torna su Non va bene Quindi serve un tubo In ferro Sapete che fa il tubo in ferro? Da monodirezione E lì va bene il tubo in ferro Non il diamante Perché la roba non va in entrambi i sensi Sapete che il problema si pone solo quando c'è un doppio senso di marcia Eh sì Mi spiego meglio Adesso riscendo e ve lo rispiego Aspettate Aspettate Vedete Se la roba io Se io avessi messo questa pipe in ferro qui Avrei detto Andate tutti per di là Gli oggetti che arrivano da qui Non va bene Perché gli oggetti che arrivano da lì Poi sarebbero tornati indietro E quindi la posso mettere solo qui Perché la roba va veramente solo nella cesta Ma è indietro Guardate Perfetto Aggiungiamo anche questi Così mette tutto allo smistamento E via Voilà Il nostro impianto È pronto Ok dovrebbe essere praticamente completo Non c'è nessun'altra modifica che dovrei fare Adesso dovrebbe andare a bestia da solo Quindi non lo tocco Lo lascio così Ah il problema è che devo bloccare il blu qui È vero Blu 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 Ferro Ferro La roba sta andata dal query Fermo pure il blu qui Oddio Mi sono dimenticato di bloccare il blu Ho visto un lingotto di ferro che andava dal query Oddio Che cosa brutta Vabbè Fa niente È un lingotto di ferro Dai Che gli fa Che impianto Però viaggia eh Perfetto ragazzi Non c'è un errore Tutto perfetto Spero che avete capito quello che ho fatto Spero eh Non è così complicatamente Intracciato Un trecciatissimo Ok abbiamo gli altri lingotti Perfetto Andiamo subito a usare Ma non ho i pinder Fornaci 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 Otto Perché è quattro per uno stack Vai 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 Cuoci cuoci Perfetto Ok Messi a cuocere quei cosi ragazzi E io direi che con l'impianto per ora è completo Dobbiamo solo collegare casa Quanto ci metto a cuocere qui? Una settimana immagino Andiamo a cotanto guarda Ok mettiamo in fila questi Mettiamo questi sotto E adesso andiamo a decidere come collegare casa Andiamo sotto Allora il modo migliore per me È tirare un cavo da qui a lì Non c'è dubbio su quello Vai Cominciamo Tiriamo questi cavi Intanto la struttura l'ho fatta apposta ragazzi Alta 3 In modo che io posso passare sotto E i cavi mi passano sopra la testa E li guardo bene In tutte le loro belle forme Dimensioni incredibili E pepsi però da qui dove cacchio vado raga È un bordello È un bordello Dove vado? Da qui dove? Potrei girare largo Una mucca Che ci fa nel mio sotterraneo di casa? Mi spia Non voglio saperlo Ok nonostante tutto Devo collegare anche questi Guardate che succede qui ragazzi Il cavo nuovo si collega a quello vecchio Voi direte? No Allora si bagga tutto No ragazzi Semplicemente qui passano 5000 E qui passano 1000 Come dice l'Andrea Vedete? Qui 1200 E qui 5100 Non gli frega niente a lei Che i cavi sono diversi Arrivato fino a questo punto Porterà 5000 Poi qui porterà 1000 E noi va benissimo così È così che vogliamo che sia l'impianto Adesso devo fare tutto un giro largo Tutto un tonno Torno Torno Eh sì per forza Qui devo pure spaccare Andare all'esterno Tutto un giro lunghissimo Che a me non dispiace Anche cioè Non è sprecare cavo Perché alla fine Magari qualche macchinario Su superficie lo dovrò fare E il cavo almeno Ce l'ho già tirato Che cosa è La mancanza di materiali Ma se ti può mangio Ma se ti può vedere le mucche Come stanno Potrei fare tante cose Aspetta a me sti lingotti Va che qui c'è il big stack Di roba da cuoce Da collegare Dammi qui va Conti sbinder Spamf 56 Alla faccia Complimenti Andiamo sotto E andiamo a collegare Anche questo cavetto Sì sfascio tutto raga Adesso me lo rifinisco Tutto io con calma Ok qui dovrebbe bastare No Non basta manco Per il chia No raga Non mi piace sto collegamento C'è qualcosa Che non mi sconfinfera No Non mi sconfinfera Perché qui dovrei Come taglio qui No 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 Sto punto tanto vuole andare di là Però dovrei spaccare il soffitto O viagere dall'altro lato Idea Passare da qui Qui ci dovrebbero essere cavi Ci sono quelli Ah ci sono quelli Questi qui però C'è questo E che me frega Io passo qua sopra Ah no non me frega invece No passo largo Passo largo Sì Ok Ancora più milioni di miliardi di cavi Ragazzi però Almeno Lasciamo a finire il nostro A collegare tutto il nostro impianto A un solo cavo Si lascia qui Qui si gira E si va verso il cavetto E connesso Perfetto ragazzi L'impianto è connesso L'energia della factorization Arriverà a momenti Perché manca un pezzetto di cavo Se non sbaglio Giusto Sì perché ho iniziato da qui Questo lo prende Lo tiro fino a qui Vieni 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 cucciolo Vieni Perfetto E adesso metto le batterie Che buttano l'energia Sopra Ma sai Io queste batterie Le metterò pure Dall'altra parte Però per ora Teniamole qui Non si sa mai Vediamo se stanno buttando fuori Si Ah bestia raga L'impianto è alimentato Questo posso anche toglierlo Via Non smontare tutti i cavetti E uso la French La thermal che faccio prima Oh picchietta 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 No mi stanno aspirando i cavi Le No le upper Fermo No I miei cavi Le Le vacuum up Mi stanno aspirando tutti i cavetti Ragazzi Stronze Vabbè Ok ragazzi Qui sta esplodendo qualcosa Che cacchio sta succedendo qua Di che cos'è questa cosa L'elettrical age Scusami Perché schizza fuori Da dove arriva questo minerale Scusatemi Ah minerale impazzito Dove esci L'impianto dovrebbe essere perfetto C'è qualcosa che non va Finiamo di smontare i cavetti Adesso Lo capiamo insieme Per me era qualcosa Che è rimasto incastrato nell'impianto E non l'ho più filtrato Sì effettivamente è così Sì 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 raga Come dico io Tutto a posto Sì 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 Era qualcosa che era già rimasto All'interno del circuito Ed è andato tutto come doveva Ok Vabbè ragazzi Anche per questo video è tutto So che è durato poco Non ho fatto molto Ma Ste cose sono importanti In casa e vanno fatte Non dobbiamo danneggiare l'impianto Perché se l'impianto non va I minerali non arrivano La roba si perde E il coso non va avanti insomma È andato Va bene ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo video Dove probabilmente Inizierò La Uplied Perché io ho bisogno della mia Uplied Sto in astinenza Sto svenendo Cazzo non ce la faccio più Ciao a tutti Nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.